E' proprio il caso di dire che nella vita gli esami non finiscono mai. La surreale vicenda di una classe quinta del liceo Galileo Galilei di Spadafora è arrivata al culmine. Si dovranno rifare gli esami orali, già sostenuti lo scorso luglio. Tutto parte alla fine degli esami di maturità nella classe. Una ragazza, supportata dai genitori, aveva infatti chiesto ulteriori verifiche, sostenendo di essere stata penalizzata nel voto. Ricostruendo i fatti nello specifico la studentessa, difesa dall'avvocato Maria Chiara Isgro, in pratica aveva segnalato che una docente di storia e filosofia, componente anche della commissione di esami interni, aveva anticipato in una chat di classe foto e immagini relativi agli argomenti che sarebbero stati oggetto di colloquio. Da qui l'intervento dell'ufficio scolastico regionale, che ha effettivamente riscontrato anomalie, obbligando l'istituto ad annullare le prove. Per la docente, ma anche per tutti gli altri componenti della commissione, sono state avviate le procedure per accertare le singole responsabilità e i provvedimenti del caso, mentre gli studenti, ammessi con riserva all'università, affronteranno di nuovo un caso senza precedenti in Italia la maturità. Una vicenda con risvolti dolorosi per tutti e con diversi spunti di riflessione e di carattere etico. A settembre scorso c'era stato il ricorso al TAR da parte degli altri allievi, difesi dall'avvocato Andrea Fiore, che avevano impugnato l'ordinanza della regione, ottenendo momentaneamente la sospensione della decisione. Adesso la sentenza del TAR del 18 ottobre, che ha dato ragione alla studentessa. Nessuno di loro avrebbe voluto ripetere l'ultima prova, vivendo quasi la trama del film Immaturi. Ma per i ragazzi del Galilei ci sarà una nuova notte prima degli esami, per citare una celebre canzone di Antonello Venditti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.